Federico Bevilacqua, avvocato 51enne di Milano, è morto venerdì 19 luglio in un incidente stradale lungo l'autostrada 12 tra Chiavari e Sestri Levante in Liguria. Stava andando a trovare la sua famiglia sulla costa Ligure quando ha perso il controllo della moto ed è stato travolto da un'auto. Il tratto dell'autostrada in cui è avvenuto l'incidente all'altezza del chilometro 37 in direzione Livorno non è coperto da telecamere e la polizia stradale ha la ricerca di testimoni per ricostruire l'accaduto. Secondo una prima ricostruzione Bevilacqua ha perso il controllo della moto per causa ancora da chiarire finendo investito da un'auto che sopraggiungeva. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi del 118 ma per l'avvocato non c'è stato nulla da fare. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore per consentire i rilievi della polizia e dei tecnici di autostrade causando code di oltre 6 chilometri. Bevilacqua aveva uno studio legale in via Panizza a Milano che gestiva dal 2006 insieme alla moglie Michela Gorini anche lei avvocato. Proveniente da una famiglia di commercialisti è stato il primo a interaprendere la carriera di giurista specializzato in diritto penale si occupava anche di cause civili e commerciali. La polizia stradale continua a indagare per determinare le cause esatte dell'incidente e raccogliere testimonianze utili.